Posso fare un'ultima domanda? La volevo fare all'ex ministro Chieng. Guarda, ci sono gli analisti che mi fanno le domande qua, per cui non ho accetto... C'è una domanda al centinaio, facciamogliela fare. Visto considerato che lei... Io non accetto le domande, le accetto dai giornalisti, mi dispiace. Visto considerato che continua a parlare di questa... Ed essere un po' la paladina dell'integrazione e dell'immigrazione. Ma quando lei ha fatto il ministro, ma che cosa ha fatto? Visto che è considerato poi... Che poi, quando è arrivato Renzi, non l'ha neanche più rimessa tra la squadra dei ministri e ha totalmente abolito il suo ministero. E' una critica, non è una domanda al centinaio. Non è una domanda e soprattutto...